ciao immaginate il silenzio della vostra casa le luci di natale il fuoco acceso un bel libro e una tisana beh questa è l'idea perfetta del natale secondo gli islandesi sì perché in islanda c'è l'usanza di regalare libri la notte del 24 e di iniziare immediatamente a leggerli ha un nome abbastanza impronunciabile che apparirà magicamente qui sotto e che letteralmente significa inondazione di libri questa tradizione risale alla seconda guerra mondiale quando le importazioni in islanda erano veramente molto limitate le limitazioni sulla carta però erano meno gravi è per questo che i libri sono diventati il regalo di natale perfetto da allora gli islandesi hanno mantenuto questa tradizione mi raccomando però se volete seguire il loro esempio il libro regalato deve per forza essere cartaceo quindi niente ebook o audiolibri